allora con mister colella siamo al turno di coppa a pordenone insomma sarà tutto diverso rispetto al campionato qual è la strategia di gioco chi scenderà in campo intanto cercheremo di far scendere in campo della gente fresca sia per dare un giusto cambio sia per giocarci la partita al meglio come penso si debba fare perché comunque la coppa italia è una competizione la quale teniamo quindi sarà diverso nel senso che non è campionato ma si affrontano due buone squadre e quindi spero sia una buona partita una bella partita ecco sarà possibile vedere arma in campo questo sicuramente ma sì questo sicuramente visto che è squalificato abbiamo avuto la fortuna tra virgolette la quarta riguarda il suo è di far giocare queste due partite che sono importanti per tenerlo in condizione siamo in chiusura di queste due o tre settimane con sette partite diciamo che siamo oltre la metà quasi alla fine finalmente dai come si diceva prima è il primo primo step importante anche noi che programmiamo i vari lavori dobbiamo anche ogni tanto valutare quello che abbiamo deciso cosa è stato fatto e man mano insomma l'avanzamento dei lavori siamo soddisfatti di quello che è successo fino adesso soprattutto perché abbiamo il gruppo assolutamente integro siamo riusciti a portare avanti quelli che erano più indietro quindi penso che tutto stia andando per il meglio ecco occasione per far giocare i ragazzi anche più giovani quelli che magari giocano meno in campionato e cos'altro? no niente di particolare sì secondo me è l'occasione buona perché è una partita ufficiale per dare spazio a chi magari ha lavorato bene e tutti e ha avuto magari meno spazio in campionato quindi ben venga sono convinto anche che ci faremo valere ecco parliamo anche del campo di allenamento lei prima in conferenza stampa ha detto che a Caldogno vi trovate bene c'è tutto insomma no no a Caldogno stiamo benissimo ci trattano bene la struttura è ottima e quindi per adesso non c'è nessun problema chiaramente adesso arriverà l'inverno arriverà il freddo bisognerà gestirlo al meglio però fino adesso niente da dire no 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 no